Buongiorno dolcissimi dolcissimi, Cinzia saluta, dai un bacio Aspetta, mi fa vedere prima le polpette, poi vi faccio vedere il video Buone, buone, buone Io e Cinzia l'abbiamo fatto Cinzia ha messo la mozzarella e il formaggio E il pepe Allora passiamo alle cose serie Sono andata al negozio e ho fatto questa spesa Allora ho preso la cincata per me, la ricotta di piccola per Cinzia e per Maria Il riso integrale, Marco Carpi riso, 1,99 euro Poi un chilo di mele Le nocci Il latte per Cinzia Poi il Nesquik Questo qua come si chiama Questo tindi per Cinzia e Maria Poi ho preso questo Oies che pensavo che rola è Al gusto fucsia Poi ho preso il vetrillo igienizzante pulisce di Nizza senza loni a 2,10 euro Poi nel reparto 1 euro nel carrello Ho preso questa coloreria italiana 5 euro costava però l'ho pagato 1 euro Elmex per Cinzia 1 euro che costava di più E poi questo dente pulisce il capitano per me 1 euro E noi ci vediamo al prossimo video Salute Cinzia Ciao ciao Saluta Maria Ciao 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 al prossimo video Bye 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 bye